Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di medioevo e medievalismi dal quinto al ventunesimo secolo. Questo video è tratto da Fra Milano e l'Impero, esordi e affermazioni del governo consolare a Lodi nel dodicesimo secolo di Gianmarco De Angelis, pubblicato su reti medievali rivista. Lo trovate al link in descrizione qua sotto. Si tratta di un paper un po' più tecnico rispetto a quelli che ho trattato, un po' più approfondito, ci sono un po' più di nomi, un po' più di date, un po' più di documenti, ma credo che sia una lettura molto interessante e sono sicuro che lo capirete anche dalla sintesi che ne ho fatto. Dal punto di vista storiografico, l'analisi delle origini dei comuni è stata dominata fino al pieno novecento dal tema della rottura contro la continuità. Per quanto riguarda il primo secolo dell'esperienza delle autonomie cittadine, i due campi si affrontano sul suggerito mutamento istituzionale, chi sottolineandone la radicalità, chi in risposta evidenziando un avvicendamento ai vertici dei governi cittadini tutto sommato non traumatico fra il vescovo e i cosiddetti consoli. Mentre sul piano economico, chi pone l'accento sui nuovi bisogni di una classe cittadina emergente si trova ad affrontare gli argomenti che vedono la nascita del comune come un processo in mano a un'aristocrazia per lo più basata nel territorio extraurbano, interessata alla città perché guadagnatasi il palco politico a fianco delle strutture vescovili, quindi non esattamente una vera e propria novità nel campo sociale della città medievale. Su quest'ultima prospettiva si pone l'interesse di una fondamentale opera di Egan Keller, Signori e Vassalli nell'Italia delle città dal secolo IX al secolo XII, pubblicato per la prima volta in lingua tedesca nel 1979. Di Egan Keller abbiamo anche letto un contributo in merito alla storiografia tedesca sui comuni e sulle città italiane nel Medioevo. Lo trovate in questo momento in alto a destra, è una lettura particolarmente interessante e se avete un'oretta di tempo da perdere e vi va di sentire uno che parla molto male in tedesco, che sono io, ve lo consiglio, andate a vedere, è interessante secondo me. Riducendo all'osso la tesi Keller, lo studio tedesco evidenzia la centralità delle clientele vassallatiche vescovili nella formazione dell'organismo comunale e, in generale, nella vita cittadino del XII secolo. La struttura clientelare del presule viene istituzionalizzata all'interno delle nuove forme di governo cittadine. L'ampio dibattito suscitato dalle originali tesi di Keller ha spinto numerosi studiosi a testare e verificare quanto sostenuto, arrivando progressivamente a ricostruire i profili di queste prime istituzioni comunali. E il risultato di questa fecondissima stagione di studi, a cui ha preso parte, fra altri, anche Alessandro Barbero, lavorando sul caso di Vercelli in una pubblicazione del 2003, hanno portato alla sfumatura dell'impianto Kelleriano, impianto che non sempre riflette la situazione storica di tutte le città centrosettentrionali. La milizia e le élite, come definite da Merviguer e Wickham, diventano poi concetti che aiutano a portare ancora più avanti la comprensione odierna della genesi comunale. I gruppi descritti dai due grandi comunalisti risultano essere eterogenei, aperti verso l'alto e il basso, e coinvolti in un grande dinamismo economico, ma caratterizzati comunque da interessi e aspirazioni condivisi. Una giustizia che li tutelasse, l'affermazione dei professionisti del diritto e della scrittura notarile, incaricati di creare una facciata ideologica e giuridica condivisa, il controllo economico e giuridico del territorio circostante la città, il dispiegamento di energia militare come mezzo di conquista del contado e come espressione di un autentico etos pubblico. In questo panorama storiografico il caso lodigiano è rimasto confinato a una dimensione minore, interagendo raramente e sporadicamente con le acquisizioni più rilevanti degli studi internazionali, venendo anche da questi sistematicamente ignorato. Non si tratta in questa sede di offrire una completa sintesi della storia comunale di Lodi, ma un'analisi per temi di alcuni aspetti delle istituzioni dell'identità civica di Lodi nel periodo che ruota attorno alla prima età sveva, prima, durante e dopo le guerre che coinvolsero le città d'Italia settentrionale e Federico Barbarossa. A tal proposito rimane però utile ricordare alcuni punti fondamentali della sua storia. Nel 1111 e nel 1158 Lodi viene distrutta da Milano e, ormai inserita in pieno nella sua egemonia, nel 1167 è costretta a unirsi alla Lega Lombarda. Qui viene finalmente e ufficialmente riconosciuta come città alla pari degli altri membri della Lega ed entra anche a far parte di un laboratorio di esperienze istituzionali, diplomatiche e politico-culturali i cui frutti matureranno negli anni 80 del XII secolo, con la formazione di una realtà tanto complessa e stratificata da sfociare in una serie di conflitti negli anni 20 del 200, dove le parte sin causa si appoggiano alle diverse realtà cittadine che circondano la città sull'Adda. Se il populus lodigiano, e populus purtroppo è un termine molto complesso per quanto riguarda la comunalistica, in questo caso però intendiamo l'interezza della cittadinanza. Se il populus, dicevo, è un'entità oscura ma presente nello spazio giuridico del XII secolo, dove agisce e parla con una sola voce, in comune, dell'elite di governo sappiamo invece moltissimo, provenienza geografica, appartenenza sociale e capacità di orientare le scelte politiche. Ne conosciamo anche i nomi, tramandati dalle testimonianze documentarie. Ci appare sì un ceto oligarchico, ma a ben vedere di dimensioni più ampie di ciò che appare in prima battuta e soprattutto capace di garantire meccanismi di rappresentanza sostanzialmente aperti. Considerando come l'odi appartenga all'area geografica interessata dagli studi sulla genesi comunale del Keller e ciò che ci viene trasmesso da alcune fonti del XII secolo, stiamo in particolare pensando qui alla storia di Milano, di Landolfo Juniore, un testo molto interessante di cui mi piacerebbe un giorno parlare, anche se non conoscendo io il latino risulta essere un attimo inaccessibile per me. Sembrano esserci tutte le carte in regola per un'insorgenza di tipo episcopale feudale del comune. Dopo la distruzione del 1111 il Populus appare imbrigliato da un vescovo filomenianese e dalla sua curia di Milites. Allo stesso tempo, però, eseguendo alcune verifiche su altre fonti coeve, il quadro appare molto più sfumato. Prima di tutto, in soli due documenti a noi pervenuti, uno del 1117 e uno del 1125, entrambi riguardanti il vescovo Arderico, sono utilizzati termini feudali, come Capitanei o Vavasores. Importante è segnalare che si tratta di documenti prodotti in ambiente milanese, riguardanti affari che coinvolgono sia persone che beni milanesi. In un documento del 1142, la prima carica di carta consolare di Lodi, vale a dire il primo documento in cui abbiamo una testimonianza dell'esistenza dei consuli, dei consules, descrivente un negozio che coinvolge sempre il presule, troviamo il vescovo Giovanni e i consuli allora in carica, che in realtà piuttosto defilati, vengono rappresentati nelle vesti di consiglieri attivi del presule. Non vi è spazio per nessun tipo di terminologia alla milanese, e i vassalli ecclesi e di precedente memoria sono ora diventati consules. Non risulta azzardato immaginare come questa prima attestazione rispondesse a una necessità lessicale precisa, al bisogno di differenziare questa situazione da altre simili, difficile da descrivere con espressioni cetuali di milanese memoria. Volendo compiere una breve panoramica prosopografica a Lodi, per la quale però vi rimando al paper linkato in descrizione perché sarebbe un po' poco adatto a questo format di video, sembra riproporsi lo stesso caso di Milano, approfondito da Paolo Grillo o di Vercelli e studiato, come ricordato poco fa, da Alessandro Barbero. Analizzando gli elenchi di consuli posteriore al 1142, riusciamo a stabilire che nel Lodigiano la clientela vassallatica Vescovilla è divisa in due parti, una rurale e una cittadina, diversificate per origini, residenza e grado di coinvolgimento nelle istituzioni comunali. Quasi assente il primo gruppo, con l'esclusione delle parabole politiche dei De Cuzzigo e dei De Tresseno, mentre la seconda parte si trova a gestire il comune fianco a fianco con un folto gruppo di indipendenti, parola messa tra virgolette mi raccomando, le cui fortune economiche sono basate su possedimenti allodiali, quindi di loro piena proprietà, oppure sulla professione notarile e giudiziaria. In tutto queste famiglie costituiscono circa il 15% dei nuclei attestati nella documentazione dell'epoca, nelle vesti più varie, il cui potere si basa quasi interamente sul possesso terriero e si ritrova ad essere quasi totalmente estraneo a prestito ad interesse e a commerci, che pure dovevano essere molto floridi nella Lombardia del XII secolo. Il quadro istituzionale nel quale questi nomi vanno ad inserirsi è scandito da una data di fondamentale importanza per la storia della lodi delle autonomie civiche. Racconta Ottone Morena, lodigiano, fra i più importanti cronisti di quest'epoca, che anche lui mi piacerebbe molto studiarlo, il problema ancora è il latino, e che il 3 agosto 1158, concluso il reto di rifondazione della città, tre rappresentanti, Rasio Morena, Arcibaldo de Sommariva, Lotario de Abbonis, vengono investiti del titolo di Consules Laundensium. La storia di questo termine ha inizio probabilmente decenni prima, forse non agli inizi del secolo, quando dopo la guerra contro Milano e la distruzione di Lodi nel 1111 vi è la prima apparizione del populus come soggetto politico portatore di stanze alternative rispetto ai poteri tradizionali, in questo caso il vescovo con cui la cittadinanza sembra essere andata in conflitto appunto in occasione di questa guerra. Ma di certo almeno dal 1142, quando per la prima volta compare una lista di consoli in un documento originale e genuino, appunto la carta consolare di cui parlavamo prima. Documento che risponde alla necessità di una situazione diversa, non tanto per i nomi degli attori politici, quanto per il diverso e ridottissimo spazio all'interno del quale questi consoli potevano agire. Un esempio fondamentale per spiegare questa situazione di imbrigliamento è ciò che avviene nel marzo 1153, narrato sempre da Ottone Morena. Si presentano di fronte al consolato e a un consiglio ristretto composto da non meglio precisati sapientes, al Bernardo Almanus e homo bono magister. C'è un dettaglio in più, è molto bello che al Bernardo venga chiamato Alamanus, che ovviamente ricorda un pochino alamanno germanico insomma. Perché nella narrazione di Ottone Morena viene specificato che tra i due soltanto uno parlasse tedesco e molto probabilmente è questo al Bernardo Alamanus. Quindi loro due vanno a fare questa ambasceria non autorizzata e solo uno sa il tedesco e quindi l'altro probabilmente era lei che lo ascoltava e diceva non era molto convinto magari. Due mercanti che come ho detto avevano portato a Federico Barbarossa un'ambasceria non autorizzata chiedendo all'imperatore di intervenire contro Milano, vessatrice di lodi e dei suoi interessi commerciali sul territorio. La prima atterrita e poi furiosa reazione del consiglio denuncia il grado di subalternità rispetto alla città egemone e addirittura un anno dopo ci ricorderà sempre Morena, i lodigiani non potevano giurare fedeltà all'imperatore senza prima ascoltare il parere di Milano. Lodi aveva i suoi rappresentanti, li aveva sicuramente almeno dal 1142, ma questi non avevano alcuna consapevolezza della loro soggettività politica. Con la formula consules laudenses, le fonti che abbiamo già visto, i documenti e la narrazione di Ottone Morena, non vogliono intendere una mera provenienza geografica, ma sottolineare il valore istituzionale di questi individui, riassuntivi della volontà del populus, della cittadinanza nella sua collettività, ma senza che sia mai presente il terzo vertice del linguaggio politico delle autonomie civiche, il comune. Questo vertice manca perché manca la civitas su cui si fonda, sia in senso materiale, la città infatti ancora in rovina, sia in senso politico perché soggetta al gioco milanese. Non è un caso che dopo la rifondazione del 1158 i termini civitas e comune inizino ad apparire abbondantemente nelle fonti. Durante gli anni convulsi delle guerre federiciane e degli accordi intercittadini abbiamo anche alcuni casi di proiezione prospettica delle istituzioni presenti in un passato in cui in realtà erano assenti. In alcuni documenti che parlano di un periodo precedente alla guerra con Milano troviamo dei tributi riscossi dal comune, entità che come abbiamo già detto sarebbe mancata sia concettualmente sia come forza politica effettiva ancora per qualche decennio. La parola comune poteva oramai identificare ogni tipo di autonomo ordinamento cittadino, qualsiasi fosse la sua collocazione temporale. Ancora per vent'anni CH però la parola comune convive con il più antico termine civitas, ma scomparendo questa seconda in modo estremamente repentino essa segnala, oltre dei probabili capricci della contingenza archivistica e documentaria, la definitiva formalizzazione dei canoni documentari della nuova realtà, canoni fortemente influenzati dagli eventi che coinvolgono Lodi e le città circostanti. Nel XII secolo guerra e diplomazia ebbero un impatto fondamentale sugli uomini, la loro circolazione e, assieme a queste, sulla circolazione delle idee. Non è un caso che il momento in cui il comune di Lodi si formalizza anche dal punto di vista documentario corrisponde a un allargamento delle prospettive e delle ispirazioni politiche della città. Nel 1191 sorge con un'alleanza tra Pavia e Bergamo, a cui si aggiungono Como, Cremona e il Marchese del Monferrato, un cospicuo fronte militare antimilanese. Partecipando a questa alleanza, Lodi ebbe la possibilità di entrare in contatto con esperienze più antiche e già consolidate dal punto di vista dell'autonomia civica, dimostrando agli stessa uno slancio evolutivo della sua stessa esperienza, nella chiave di una rinnovata contrapposizione a Milano e alle sue mire egemoniche. Da questo punto di vista il comune come univoca identificativa e ideologica rappresentazione della città è sintomo di una maturità delle prime istituzioni, ma anche uno sguardo propagandistico sulla realtà politica interna della città. Nel 1198 veniamo a sapere del fuoriuscitismo di alcune famiglie rifugiate sia a Milano dopo l'inizio delle ostilità nel 1193, defezioni che comunque non infransero la coesione delle istituzioni cittadine. Quel nome era oramai legato a una vera unione politica, una università scomplessa, articolata, caratterizzata sì da contrasti, ma pienamente consapevole della necessità di un'istituzione capace di legittimare posizioni e competizioni politiche. Siete stati su Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal V al XXI secolo. Vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando alla prossima puntata dove, con ogni probabilità, andremo a parlare di Vercelli, recuperando quel paper del nostro caro amato Barbero. Ciao a tutti!